Cerchi visibilità online per il tuo studio notarile? Con sito web e canali social realizzati da esperti? Per raggiungere nuovi clienti tramite l'ottimizzazione dei contenuti del sito e annunci pubblicitari online? Notaio MyWeb 360 è la risposta giusta per te! La piattaforma d'eccellenza pensata da Wolters Kluwer per professionisti notarili che vogliono costruirsi un'identità digitale, efficace e sempre aggiornata. Con Notaio MyWeb 360 tutto diventa più semplice. Scegli il nome per dominio e caselle e-mail. Progetti il tuo sito con i nostri consulenti. Lo ottimizzi con attività SEO mirate per una migliore indicizzazione sui motori di ricerca e lo promuovi con annunci pubblicitari online. Aggiorni in modo autonomo ogni pagina del tuo sito grazie al CMS dedicato, con le novità più importanti del tuo studio e con i contenuti d'eccellenza della nostra redazione. Realizzi le tue pagine social insieme ai nostri esperti e, se vuoi, grazie agli services integrati con i nostri software Notaio Next e Suite Notaro, invii e ricevi comunicazioni e documenti in modalità sicura con i tuoi clienti. E in più, grazie al manuale digitale e videocorso, redatto da esperti del settore, impari a gestire e migliorare la tua reputazione online e sui social. Notaio MyWeb 360 offre diverse tipologie di piano adatte ad ogni esigenza, dalla creazione del sito web fino al mondo dei social. L'assistenza dei migliori esperti, le ultime tecnologie, contenuti di qualità, massima sicurezza e privacy. Con Notaio MyWeb 360 hai proprio tutto quello che ti serve per creare un'identità digitale su misura e sempre aggiornata per il tuo studio notarile. Per saperne di più, visita subito il sito notaio myweb.it e richiedi una demo gratuita per toccare con mano tutti i vantaggi di questa soluzione.